Ciao e benvenuta in questa nuova rubrica Cosmic Guide per risvegliare la tua divina essenza come guida per te stessa e anche per gli altri. Io sono Jessica Pellegrino, sono una Divine Manifestor e ti guiderò in questo viaggio multidimensionale dove uniremo astrologia, manifestazione e anche maestria cosmica per rendere la tua spiritualità una pratica concreta e anche l'energia universale il tuo canale di manifestazione e crescita sia personale che imprenditoriale. Questi sono gli strumenti che uso come imprenditrice ma anche come donna in continua crescita e desidero portarti le mie conoscenze e la mia esperienza in modo semplice, efficace e anche pratico per elevare il tuo business a nuove dimensioni di crescita, prosperità e impatto. Perché ho deciso di creare questa nuova rubrica? In realtà siete abituate a vedere che ci sono già le mie live settimanali, ci sono i video che già carico qui sul mio canale youtube, ci sono già altre modalità con il quale entrammo in relazione, ma ho scelto di partire dal bollettino cosmico del mese per aiutarti a comprendere come le energie planetarie hanno un impatto sia collettivo che personale. Noi ci troviamo davanti a un'energia che in ognuna genera un impatto diverso e imparando a conoscere queste energie possiamo comprendere meglio come queste influiscono su di noi e vedere anche come questa consapevolezza ci dà un punto di partenza per attuare la nostra personale evoluzione. Quindi oggi diamo inizio a questa nuova rubrica portando l'attenzione sull'energia che fluisce oggi e che durerà per tutto il mese fino al primo di giugno. Infatti dalle ore 19.47 Plutone entrerà in moto retrogrado, quindi avremo un mese dove c'è una retrogradazione di questo pianeta che già di per sé è molto lento e che ci accompagnerà a scoprire qualcosa di importante su di noi. Qualcosa che sarà anche a nostro beneficio, qualcosa che ci aiuterà ad adottare una nuova crescita e infatti queste opportunità ci permettono di comprendere meglio da un punto di vista collettivo che cosa sta avvenendo nell'intero cosmo e comprendere come già queste energie in qualche modo ci stanno toccando e ci stanno dando dei segnali importanti. Infatti quando Plutone entra in moto retrogrado ci permette di vedere come possiamo vivere un momento dove l'energia di questo pianeta assume una qualità più intensa e ci porta ad essere molto più introspettive. Infatti Plutone è associato alla trasformazione, è il pianeta per eccellenza della trasformazione, è legato al potere e anche alle profondità dell'inconscio. Infatti questo tipo di pianeta viene considerato un pianeta molto lento e quando è in forma retrograda e in moto retrogrado questo pianeta ci spinge ad esplorare le parti più oscure e nascoste di noi stesse, ci incoraggia a lasciare andare tutto quello che non è più utile alla nostra crescita ed evoluzione e ci porta finalmente a rinascere in una nuova forma. A inizio anno Plutone è entrato nel segno dell'acquario quindi puoi anche approfondire questa tematica andando a recuperare i miei video precedenti ma adesso focalizziamoci su come vivremo l'energia di questo mese perché siamo entrate in un ventennio sicuramente di grandi trasformazioni dove ancora non abbiamo visto niente rispetto a quello che verrà ma tanto più saremo in grado di esplorare queste ombre dentro di noi grazie al moto retrogrado di Plutone che ci sarà questo mese tanto saremo in grado poi di manifestare nel mondo la nostra luce e la realizzazione dei nostri intenti. Tutto parte da noi quindi sia la realizzazione personale che quella economica che avviene anche attraverso l'imprenditoria come insegno attraverso il mio lavoro ci permette di vedere come per ognuna di noi andremo a percepire in modo diverso tutto quello che avviene da un punto di vista universale e il modo in cui avviene dentro di noi ci permetterà anche di comprendere come poter fare questo tipo di lavoro questo tipo di evoluzione che siamo chiamate in questo momento storico a vivere ed esperienziale quindi ognuno lo percepirà in modo diverso e leggendo il nostro tema natale sarà possibile comprendere qual è l'area della vita in cui saremo chiamate a portare la nostra attenzione e anche in che modalità lo andremo a fare però adesso possiamo fare attenzione a come abbiamo cominciato a percepire questa energia da inizio anno fino ad oggi e come questa si sta trasformando proprio in questi giorni quindi andiamo a vedere insieme come potremo percepire a livello collettivo questa energia andiamo a vedere intanto che quando plutone agisce in moto retrogrado potremmo percepire delle tensioni interiori magari potremmo provare ansia o vivere proprio dei momenti sfidanti sul piano emotivo e potremmo anche sentirci spinte a confrontarci con le nostre paure più profonde con i nostri blocchi emotivi con i nostri schemi comportamentali che abbiamo magari integrato negli anni e questo chiaramente non è un passaggio semplice è qualcosa che tendenzialmente cerchiamo un po' di reprimere cerchiamo di accantonare perché non è facile andare a esplorare le proprie ombre ma quando viviamo in moto retrogrado plutone è qualcosa che volenti o nolenti andiamo comunque a provare ad esperienziare allora tanto vale andarci a portare le attenzioni così da poter uscire da questa percezione potente e portare alla luce tutto quello che abbiamo sepolto dentro di noi rendendoci quasi imperativo a un certo punto vedere che questa retrogradazione ci porta comunque a confrontarci con la nostra ombra e quindi quello che siamo chiamate a fare in questo momento è accogliere noi stesse nella nostra completezza nella nostra interezza quindi nelle nostre luci e nelle nostre ombre andando a esplorare questo come possiamo vivere quindi questa energia intanto per vivere al meglio l'energia del moto retrogrado di plutone è importante abbracciare il processo di trasformazione che sta avvenendo in noi e vedere il cambiamento come una parte integrante della nostra crescita personale quindi è importante aprirci a questa esplorazione dobbiamo essere disposte a esplorare queste emozioni più profonde e farlo senza giudizio lasciando andare tutto quello che in questo momento ci sta attartenendo in realtà è un atto veramente liberatorio probabilmente non ce ne rendiamo conto ancora ma è veramente così questo è un momento perfetto per onorare la nostra verità interiore e impegnarci a vivere in modo autentico e centrato su noi stesse quindi andiamo a osservare che cosa è avvenuto finora e magari che cosa abbiamo cominciato a percepire già tra ieri e oggi per esempio e andiamo a mettere in pratica tutto questo quindi andiamo a capire quali possono essere delle modalità con il quale entrare in esplorazione con queste energie quindi ti lascio adesso quelli che sono i miei consigli cosmici per risvegliare la tua guida interiore intanto alcuni suggerimenti molto pratici che posso darti riguardano proprio svolgere delle pratiche di presenza dove poterti connettere al respiro al tuo interiore e ricevere così la saggezza e le preziosi intuizioni universali che possono giungere a noi in realtà se desideri fare anche questo tipo di esperienza guidata da me io ne faccio diverse nel mio gruppo facebook gratuito strong portals quindi ti metto se vuoi il link qui in descrizione così puoi anche tu accedere a queste pratiche gratuitamente e a queste andiamo ad unire delle pratiche energetiche come il reiki come le canalizzazioni che generalmente faccio tramite akasha e tramite il channeling per poter portare una ricalibrazione energetica a tutte queste parti che adesso hanno bisogno di essere esperienziate e da questa esperienza noi possiamo tenere traccia di tutti quei pensieri quelle emozioni e anche le esperienze che andremo a fare in questo periodo possiamo usare ad esempio un diario che vi dedichiamo a questa esplorazione delle nostre ombre possiamo fare journaling che è una pratica utilissima per scrivere tutto quello che stiamo provando stiamo pensando stiamo esperienziando perché questa pratica in realtà ci aiuta a fare un'esplorazione più profonda dentro di noi e avere anche chiarezza su tutti quegli aspetti che adesso probabilmente siamo pronte a evolvere quindi ecco queste sono delle piccole nozioni che ci aiutano ad adottare già delle pratiche che in maniera molto concreta ci aiutano a esplorare tutto questo poi chiaramente ci sono tante cose che possiamo fare possiamo farci seguire in un percorso possiamo cominciare a adottare noi delle pratiche energetiche imparare ad esempio attraverso il reiki l'astrologia akasha il channeling giusto per citarne alcuni che sono quelli che poi uso più di frequente cominciare a esperienziare questa parte più spirituale ed energetica per entrare anche a generare una guarigione interiore una pulizia e un'espansione di quello che è il nostro canale la nostra capacità di manifestare nella nostra vita la nostra realizzazione e il risveglio della nostra guida interiore è importante ricordarci che il moto retrogrado di plutone è parte del ciclo cosmico e ci offre un'opportunità preziosa per la nostra crescita sia personale che spirituale quindi possiamo vivere appieno questo periodo che vi ricordo durerà fino al primo di giugno per risvegliare la nostra guida interiore e abbracciare il potere della trasformazione dentro di noi e per concludere questa prima puntata della nostra rubrica cosmic guide ho deciso di creare un nostro rito che faremo ogni volta infatti ho con me uno strumento che chi mi segue su instagram conosce molto bene ovvero le rune e pescherò insieme a voi appunto la runa che ci accompagnerà in questo momento speciale ecco qua abbiamo pescato una runa meravigliosa che vi mostro qui questa è la runa raido è una runa meravigliosa perché simboleggia il viaggio e la sincronizzazione direi che non poteva esserci una runa migliore per concludere questo momento insieme questa runa che potete vedere sembra una sorta di r se la vedete bene ci porta a osservare la strada il sentiero il viaggio e anche il movimento che è un'energia che ci accompagnerà proprio per attivare noi la nostra bussola interiore per capire anche in che modo stiamo procedendo qual è il percorso che la nostra anima sta intraprendendo la runa di raido in realtà ci aiuta a trovare noi stesse e a stabilire degli intenti che ci portano a creare un nostro sviluppo interiore uno sviluppo spirituale uno sviluppo energetico e questa runa generalmente si palesa noi quando abbiamo le conoscenze l'energia e l'ispirazione necessaria per attuare quel tipo di evoluzione quindi quando andiamo appunto a seguire anche la nostra voce interiore la nostra guida interiore ecco che raido ci guida anche a portarci quell'energia che sarà utile necessaria per raggiungere tutti i nostri intenti quindi ecco direi che questa runa possiamo assolutamente portarla con noi generalmente io le rune le utilizzo appunto come come ispirazione le tengo generalmente con me sulla scrivania quindi quando sento per me è arrivato il momento di lasciarmi guidare dall'intuizione e dall'energia delle rune ne pesco una proprio come ho fatto adesso e guardo qual è il significato e quindi se vi risuona il significato di questa runa e sentite di voler attingere a questa energia meravigliosa potete semplicemente fare questo simbolo riprodurre questo simbolo su un foglietto o anche sui polsi con la penna semplicemente poi tanto va via subito oppure in un luogo che avete sempre sott'occhio così da poter poter vi lasciare ispirare da questa energia meravigliosa poi vedremo comunque che in seguito a questa rubrica ci saranno altri momenti per scoprire tutte le altre rune per poter vedere anche in che modo entriamo in relazione con queste energie e cominciare a cogliere in maniera più sottile quello che avviene dentro di noi imparando ad attingere a questa conoscenza cosmica che giunge a noi in modalità diverse infatti oggi abbiamo usato l'astrologia e la guida delle rune ma che ogni volta appunto ci donerà i suoi messaggi potenti e ci faranno sentire sostenute spero che almeno questo sia stato per voi questo momento insieme noi ci vedremo con altre puntate di questa rubrica quindi per oggi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani alle ore 18 18 per parlare del portale energetico 55 che troveremo proprio in occasione del 5 maggio quindi di questa domenica se desiderate completare insieme un'esplorazione più potente e essere proprio guidate in questo cammino di risveglio della vostra guida interiore potete iscrivervi al corso gratuito di inner power che inizieremo il 27 di maggio se volete iscrivervi potete trovare tutto già dal mio sito oppure qui nella descrizione troverete il link ad ogni modo basterà andare su www.jessicapellegrino.com slash in trattino meno power e lì trovate tutto quindi io vi aspetto a braccia aperte e intanto vi do appuntamento a domani grazie intanto per aver partecipato a questa rubrica che spero appunto possa crescere insieme a tutta la tribe di strong un bacio a tutte ciao ragazze